Il calcio, cercando di tenere dei ritmi che indubbiamente saranno fondamentali e importanti se sostenuti su dei buoni livelli, è una squadra che concede poco, una squadra che sbaglia poco è chiaro che se vuoi pensare di indurla in qualche fallo, devi tenere i ritmi alti cercare di metterli costantemente sotto pressione, se li fai giocare dei ritmi che sono blandi ma questo telesquale diventa ancora più agevole il discorso è chiaro che laddove il tasso tecnico è superiore, quanto più tu riesci ad accelerare ad essere veramente con delle velocità superiori alla media, però qualche difficoltà in più glielo consenti, laddove il tasso tecnico è un po' inferiore e si ingigantiscono a queste difficoltà Altro? Grazie